Musica Buongiorno a tutti amici di Tele One quest'oggi è l'11 marzo, nuova puntata di 16 gol Inside, il nostro approfondimento settimanale sulle vicende di Palermo, Catania e Messina quest'oggi parleremo di una vittoria dei Rosanero in casa del Lecco vittoria risicata ma per parlare di tutto ciò quest'oggi ho il grande piacere di avere qui con noi il nostro collega Stanislao Lauricina Buongiorno Stanislao Buongiorno, buongiorno a tutti gli spettatori Buongiorno, allora Lecco Palermo 1-0 Rosanero che hanno vinto senza incantare si può dire sicuramente una sofferenza tant'è che gli interventi di Pigliacelli sono stati parecchi Palermo che ha sofferto però la cosa più importante Stanislao è che questi tre punti alla fine siano arrivati Sì, è una vittoria fondamentale sul piano del percorso, dell'andamento del campionato per coltivare ancora ambizioni per quanto residui possono essere di arrivare al secondo posto o comunque di piazzarsi in vista dei playoff in una posizione quanto più vantaggiosa possibile della partita di Lecco prendiamo soltanto i tre punti, il risultato perché poi tutto il resto è da dimenticare un plauso va ai tifosi che in trasferta seguono sempre in modo massiccio il Palermo tanto più in condizioni logistiche difficilissime sia per quelli che venivano dal nord che per quelli che sono arrivati da Palermo che sono arrivati alla fine e che comunque si sono fatti notare ecco loro sono i veri vincitori di ieri secondo me Assolutamente d'accordo, hai detto una cosa importantissima e già molti tifosi guardano al futuro prossimo che si chiama Venezia partita importantissima quella dei Rosanero con il Venezia ci giochiamo molto, ci scrivono i tifosi contro il Venezia settimana da silenzio stampa diciamo che il clima nonostante la vittoria non è completamente sereno in casa Palermo per ciò che riguarda i supporter Da questo punto di vista diciamo che l'atteggiamento della tifoseria nei confronti non tanto della squadra quanto dell'allenatore è ondivago da due anni a questa parte alternativamente in base all'andamento della squadra si fanno vedere quelli del Corini out mentre quando il Palermo va bene si fanno vedere quelli che sostengono l'allenatore naturalmente i tre risultati non positivi il pareggio di Cremona e poi le due sconfitte di fila hanno ridato fiato a quelli che vorrebbero che Corini andasse a allenare da un'altra parte e certamente la prestazione di ieri sul piano della qualità del gioco dell'atteggiamento della squadra non porta acqua al mulino dei fan del tecnico Bresciano certamente il Palermo ha bisogno del sostegno dei giocatori della tifoseria perché con il Venezia sarà una partita davvero complicata il Venezia è una squadra pericolosa che per ora sta andando molto bene accoltiva le stesse ambizioni del Palermo se non di più perché ha 5 punti intanto alla regia possiamo chiedere di vederla questa classifica si puoi proseguire appunto ha 5 punti se non sbaglio più del Palermo in classifica quindi vede la possibilità di agganciare la Cremonese che ha solo i due punti sopra molto più del Palermo quindi una vittoria contro il Venezia sarà essenziale hai parlato di Eugenio Corini noi di solito apriamo questa trasmissione con un po' di ironia possiamo andare a vedere hai presente quei poster che sono stati installati all'interno dello stadio Renzo Barbera all'ingresso e FPS i nostri cari amici mattacchioni tifosi di Forza Palermo sempre hanno creato proprio una immagine che è quella che la regia si prepara a mostrarvi eccola qui il giocatore si chiama Consoli Damento allora e qui torniamo intanto insomma non c'è che da sorridere guardando questa immagine torniamo a discutere sempre di una tematica e ne ha parlato anche lo stesso Corini durante la trasmissione cioè insomma i tifosi fanno un po' di ironia quando dico questi termini consolidamento percorso in particolare è giusto è giusto perché il clima che si deve vivere intorno allo sport in generale deve essere quello un po' goliardico quello del divertimento io non voglio fare così del moralismo da due soldi però esasperare i toni non giova mai a nessuno abbiamo visto cosa succede a Lecce e in altri campi dove si è ceduto veramente in modo intollerabile quindi prendere lo sport con ironia è un tocca sana io in quella vignetta cambierei un po' sposterei un po' i termini anziché Consoli Damento farei Consoli Damento perché a vedere certe prestazioni del Palermo il mento, proprio la mascella cade in due lo si consolida io non sono un fan di Corini io come dire avrei cambiato già a metà del campionato scorso dopo la vittoria contro il Genoa la vittoria casalinga contro il Genoa il Genoa di Blessing è perso qua però dominò la partita come è capitato anche ad altri avversari che qui hanno pure perso parliamo dell'estate del 2022 sì esatto la parte iniziale dello scorso campionato con le 15 occasioni da reti del Genoa non ricordo le statistiche però ricordo una prestazione del Palermo davvero passiva ecco io quello che rimproverà Corini principalmente è una cosa noi abbiamo visto là in quel poster il Corini giocatore il genio che fece innamorare Palermo il genio che ogni volta che veniva a Palermo era osannato giustamente giustamente perché è uno dei simboli di una storica promozione adesso noi ricorderemo il Corini allenatore e non sarà un buon ricordo nonostante ancora sia tutto in gioco nonostante tutto può succedere perché in ogni caso ci sono sempre i playoff che potrebbero garantire al Palermo di concretizzare un sogno esatto è quello che si augurano i tifosi del Palermo andiamo a leggere qualche altro messaggio grandissimi ragazzi secondo tempo di sofferenza ma ne ero consapevole dopo che avevamo chiuso il primo tempo sul punteggio di 0 a 3 è con un gioco spumeggiante pieno di azioni da gol grande mister insomma non è molto serio questo no è divertente è divertente fa quella sana ironia di cui parlavamo poco fa io credo che sul sul gioco appunto io ti volevo chiedere qualcosa a proposito del gioco che non è che abbia avuto delle parabole ascendenti o miglioramenti particolari nel giro di questi due anni che citavi tu cioè non abbiamo mai visto forse un Palermo con un gran bel gioco a parte piccolissime parentesi ma si contano sulle dita di una sola mano le partite in cui il Palermo ha mostrato un bel gioco anche quest'anno sì io penso che intanto ieri sul Palermo gravava un peso morale molto forte c'era la squadra viveva l'esigenza di tornare da Lecco con un risultato positivo proprio per spezzare quella linea di tre risultati non totalmente positivi anzi due assolutamente negativi che avevano interrotto una corsa che sembrava lanciata perché se il Palermo avesse vinto a Cremona oggi parleremo di altro e quindi il Palermo ieri ha badato soprattutto appunto a portare legna per il proseguimento per riprendere quel cammino quello che dici tu è vero il Palermo non è mai stata una squadra che ha imposto il suo gioco agli avversari che ha avuto che ha andiamo più nel generale che ha una idea di gioco chiara che non sia quella o della chiusura per poi partire in rimessa sfruttando soprattutto il gioco sulle fasce quando i suoi giocatori laterali sono in vena se non funzionano quelli il Palermo si inchiuma si blocca totalmente e non ce n'è esatto ne vale il paradosso se mi permetti di andare lungo del gran numero di gol che il Palermo ha fatto perché il Palermo ha uno dei reparti offensivi più prolifici del campionato credo soltanto dietro al Palma forse il secondo ecco credo soltanto dietro al Palma ma questo deriva proprio da questo aspetto non è casuale a mio modo di vedere che le sconfitte si sono arrivate con squadre medio piccole che sono quelle che si chiudono e ripartono in contropiede proprio perché il Palermo ha la difficoltà di fare gioco di creare giochi e occasioni contro queste squadre contro le squadre che si aprono che hanno un loro gioco che si aprono e che lasciano spazi al Palermo il Palermo va a nozze e magari a volte dilaga l'ultimo esempio è stato contro il Como che a Palermo sembra di Barcellona per certi versi e poi insomma mi ricordo anche il Venezia visto che il prossimo il prossimo avversario del Palermo la partita di andata con quella tripletta di Brunori ce la ricordiamo sicuramente però adesso insomma volevo anche dare il benvenuto a un altro ospite in termini statistici quello che stiamo per ascoltare è l'allenatore che nella storia del Palermo è stato appunto il tecnico più vincente record di 65 punti con 18 vittorie 59 reti realizzate è proprio il discorso dei gol e dell'attacco atomico quest'oggi abbiamo il piacere di avere qui a 16 gol inside l'ex tecnico rosa nero Delio Rossi buongiorno buongiorno mister buongiorno a voi qualche mese fa qualche settimana fa parlò nel corso di un'intervista per il Palermo le cose non andavano assolutamente bene ma lei in quel momento disse che per il Palermo sarebbe stato quasi un miracolo una promozione in Serie A quest'anno poi le cose sono cambiate però insomma è ancora questo il suo pensiero se mi ricordo bene non ho detto che era solo un miracolo ho detto solo che già il fatto che una squadra come il Palermo si presenta in Serie B penso che ha il diritto il dovere di pensare anche eventualmente la promozione allora stavo in una posizione classifica che era molto difficile fermo restando che conosco il campionato di Serie B e non c'è grossissima differenza tra le squadre che stanno magari in questo momento nei primi posti con le ultime anche perché la Serie B è molto livellato poi dipende dal discorso che se la squadra hanno fatto dei inserimenti il Palermo penso che possa anche poter ambire a lottare per l'alta classifica di lì andare su poi ce ne passa e allora c'è da dire che nel mese di novembre dopo la partita con il Cittadella il pubblico ha quasi sfondato diciamo così un cordone di polizia per la sconfitta dei Rosanero contro appunto il Cittadella c'era un clima abbastanza nero io le chiedo ma è difficile è più difficile lavorare a Palermo per un allenatore per la mia esperienza io ho avuto ho avuto grandi riscontri da parte della gente e soprattutto ho avuto grande rispetto del mio lavoro c'è anche da dire che la squadra è andata sempre bene non abbiamo vissuto momenti molto di basse e quindi quanto le cose vanno bene è molto più facile allenare però non penso che sia una questione legata alla piazza di Palermo e si sa che quanto le cose non filano per il verso giusto ci si può essere anche contestazione soprattutto in certi momenti bisogna tenerla a barra dritta soprattutto fare come Ulisse mettersi i tappi nelle orecchie e continuare a lavorare però non penso che sia legato al discorso della piazza di Palermo e quindi non penso che sia difficile allenare in una piazza importante come Palermo e allora a proposito di società dall'arrivo del City si è parlato spesso ne abbiamo parlato con Stanislav oppure poco fa di percorso di consolidamento e così via io le volevo chiedere visto che i tifosi un po' hanno sbottato insomma si sono un po' lamentati quest'anno lei si aspettava un Palermo sin dall'inizio del campionato in lotta diretta per la serie A è normale già per il fatto stesso che ti chiami Palermo che devi cercare di lottare per salire di categoria e come lo stesso discorso vale per il Bari il discorso vale per il Parma nel momento stesso che ti chiami ti chiami Parma ti chiami Bari ha maggior ragione per il Palermo e quindi penso che la società questo lo sappia mi sembra che una società io non la conosco ma l'importante è che la società sia chiara cioè nei confronti della gente deve dire che cosa vuole fare di questa squadra e dove vuole arrivare senza pigliare in giro nessuno io non so se questa società ha fatto dei discorsi chiari anche perché nel momento stesso che tu sei sincero con la gente nessuno ti riproverà niente nel momento stesso che però sanno che hanno il Palermo e quindi nel momento stesso che c'è il Palermo devi lottare per cercare di sarete categorie e allora mister noi sappiamo che lei ha degli impegni io per salutarla le volevo dire soltanto le parole Cassata Cannolo Arancina che cos'è che le manca di più dell'esperienza a Palermo onestamente ne sono di due perché non è che sono particolarmente amante dei dolci mi manca tutto il resto di Palermo l'affetto la considerazione il mare anche perché alzarsi e vedere il mare secondo me mi agevolava anche il lavoro sono amante del mare il mare pulito il mare bello di Mondello la taura dove stavo e onestamente mi manca anche il lavoro quotidiano che avevo lì al centro al centro sportivo e mi manca il sole sono queste le cose che mi fanno riconciliare col mio lavoro noi mister la ringraziamo sarà per la prossima in bocca al lupo per tutto mister Delio Rossi anche voi e forza Palermo un abbraccio forte grazie ciao a Delio Rossi manca il mare più che i cannoli e le arancine però Delio Rossi ha detto una cosa importante questa società dobbiamo essere sicuri non penso che questa società prenda in giro i tifosi ma il City ha veramente dato un messaggio chiaro all'inizio di questo campionato ricordiamo le interviste a Gardini parliamo anzi delle conferenze stampa di Corini quella famosa conferenza in cui disse quarto quinto posto e la gente impazzì insomma il segnale chiaro quest'anno è arrivato oppure arriverà l'anno prossimo chiariamola questa cosa c'è da dire che lo sport è il regno dell'imponderabile non è che se tu programmi certamente cogli quello che pensi di aver seminato per cui le ambizioni poi devono essere suffragate dal campo io credo che la società nel suo linguaggio nella sua testa sia stata chiara ha individuato un percorso se noi a Palermo ci aspettavamo i fuochi di artificio ebbene allora ci siamo sbagliati loro vogliono procedere per tappe non vogliono come dire stravolgere nulla e anche quella che io definisco l'ostinazione con Corini è in linea con il loro modo di agire loro hanno parlato una volta e vanno avanti coerentemente con quello che hanno detto gli esoneri i stravolgimenti della rosa non fa parte del loro modus operandi per cui noi di questo ci dobbiamo capacitare e vedere quello che succede esattamente staremo a vedere a partire dalla partita con il Venezia dicevamo sicuramente un segnale importante arriverà andiamo a leggere qualche messaggio perché siamo quasi in chiusura e anche oggi lezione di calcio da parte dell'ultima in classifica la cui rosa vale un decimo della nostra complimentoni al nostro condottiero scrivono i tifosi siamo scarsi dobbiamo essere felici se andiamo a giocarci i playoff vittoria che serve solo a confermare un allenatore in un momento in cui ci vorrebbe un forte scossone City Group dove sei e poi sofferenza con una squadra con un piede e mezzo in Lega Pro di buono soltanto i tre punti è vero pure che si è giocato in un campo di patate confermiamo insomma il campo non era sicuramente in grandissime condizioni io ti volevo chiedere Stanislao tu sei un grandissimo appassionato di rugby hai vissuto un'emozione enorme sabato ci racconti cosa hai fatto e dove sei andato sono andato all'Olimpico a seguire la partita dell'Italia nelle se nazioni contro la Scozia sì è stata un'esplosione un'eruzione vulcanica di emozioni e di gioia io amo il rugby per quello che per i suoi valori tecnici per i suoi valori morali sono innamorato della maglia azzurra esatto e posso dire che ho subito rispettosamente gli sfottò per tanti anni non solo senza vittoria ma di sconfitte però lasciatemi dire che quando si vince e come si è vinto sabato contro la Scozia viene una gioia che ripaga di tutte le delusioni io invito tutti quanti i tifosi del Palermo a seguirlo questo sport insegna anche come approcciarsi appunto allo sport con un animo più come dire più sereno più rispettoso di quello che è il risultato le decisioni degli arbitri il rispetto per le tifoserie opposte trasformare una partita in una festa poi che si vinca o si perde certo se si vince è meglio ma se si perde pazienza si impara una lezione per la prossima partita esatto grandissime emozioni ovviamente come quell'inno nazionale cantato dall'Olimpico pieno tra l'altro quindi non stiamo parlando di una nicchia soltanto vedere i vicino a te i tifosi della Scozia cantare il loro inno Flower of Scotland da far venire i brividi però sono sicuro che quando noi abbiamo cantato il canto degli italiani l'inno di Mameli sotto il kilta anche a loro si sono rizzati i peli sicuramente sicuramente sarà stato così io chiedo alla regia di vedere anche la classifica della serie C mentre siamo in chiusura andiamo a parlare di Messina e Catania in velocità sono arrivati due pareggi brucia sicuramente quello del Catania in casa pareggio scialbo il Catania è andato un po' meglio nel secondo tempo ma caro Stanislao che cosa hanno fallito non so se hai visto gli highlights io ho visto la partita hanno sbagliato l'incredibile il Catania ha sbagliato l'incredibile e bisogna stare attenti ai play out che sono lì vicino ancora la distanza di sicurezza c'è invece per quanto riguarda il Messina un pareggio pesantissimo è sicuramente tutt'altra cosa rispetto a quello del Catania che è arrivato sul campo del Benevento il gol di Lanini ha portato in vantaggio i padroni di casa poi il Messina ha risposto al minuto 90 il Messina ha anche reclamato due calci di rigore insomma una traversa anche colpita da Zunno e si può dire che questo Messina con questo entusiasmo sicuramente se riuscisse a conquistare anche l'accesso ai play off si potrebbe prendere qualche soddisfazione non una promozione per forza però come dicevamo la scorsa puntata anche un accesso nei play off chissà anche psicologicamente potrebbe dare un impet anche per la prossima stagione una forza in più possibile io sentivo Delio Rossi quando parlavate di miracolo non miracolo ricordiamoci del Palermo di Baldini però ricordiamoci del Palermo di Baldini cioè quello che Baldini portò a livello morale in una squadra che tecnicamente era quello che è certamente non era la più forte regione lo stesso può capitare al Messina con il lavoro di Modica per quanto riguarda il Catania non l'avrei visto neanche se aveva avuto tempo ti dico la verità però il Catania deve essere attento non può cullarsi sul fatto di essere in finale di Coppa Italia che garantisce una posizione nei play off la vittoria se non sbaglio se la dovrà vedere contro il Padova no? esatto sì perché dobbiamo tifare noi lasciamo questa domanda ai tifosi di Catania ma non c'è neanche bisogno di rispondere forza Padova sempre perché i nostri gemelli che mi prendo assolutamente perché io sono tifoso quindi il calcio è vissuto sempre come sfottò però le rivalità ci sono permettetemi almeno di tifare contro poi va benissimo così io Stanislao ti ringrazio tantissimo per questa ospitata qui è stato un piacere enorme sicuramente ripeteremo quando vuoi io ringrazio te per aver avuto la cortesia di correre il rischio di invitarmi ringrazio te ringrazio i tuoi telespettatori che hanno avuto la pazienza di seguirci grazie ringraziamo Stanislao Lauricina appuntamento alla prossima settimana grazie a tutti buon proseguimento di ascolto qui su Tele One grazie a tutti